. Chiara Ferragni è davvero incinta? Aspetta un maschio da Fedez, si chiamerà Leone. . Chiara Ferragni e Fedez avranno presto un figlio, è maschio. Chiara Ferragni è davvero incinta. . Dopo settimane di rumors, è il settimanale Oggi a dare finalmente la certezza, la fashion blogger darà un maschietto a Fedez. . E la coppia ha anche già deciso il nome da dare al loro erede. . Si chiamerà Leone il settimanale Oggi, in edicola da giovedì 26 ottobre, racconta tutti i dettagli della notizia esclusiva. . Tanto da poter anticipare che Chiara Ferragni e Fedez aspettano un maschietto, e che si chiamerà Leone. . Oggi ha infatti raccolto le confidenze di un amico intimo della coppia. . . . . Il matrimonio La notizia confermata della gravidanza di Chiara Ferragni arriva a pochi giorni dal 28esimo compleanno di Fedez, e a un anno circa dalla nascita dellamore tra la fashion blogger e il rapper. . . Che hanno anche già in programma il matrimonio, a Cremona, nella primavera 2018, vista la promessa damore sul palco davanti a migliaia di fan. . Tanto, però è la ciconia che arriva nel superattico dove vivono Chiara Ferragni e Fedez. . . . . . .